Perché lui è ufficialmente diventato Pagliazzo dopo il video Ah va bene Sei serio che vuoi parlare del video? Sì Allora però usciamo proprio dalla nostra intimità Ok Dalla nostra intimità di che cosa? Vabbè però perché se ti devi comportare così Poi tiro fuori anche io i nostri alterini I messaggi locali Altarini Non alterini Altarini Allora Notaio per piacere Possiamo far sentire gentilmente L'audio che mi ha mandato ieri sera Al dottor Bovinelli Sì certo No 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 Questo è un audio che Verificherà Solo l'intelligenza artificiale Che verificherà Quello che è lei Cioè uno che viene qui e dice delle cose Poi dopo va a cena con certe persone Possiamo sentire l'audio Abbiamo una velina che mi va a prendere un cuscino Vada vada con la Sesco in generale cazzata del giovedì Dada sentiamo che cosa ha preparato Ciao Fiora Ti faccio un audio perché sono a cena con delle persone Ho visto il video Ti volevo chiedere se magari potevamo accordarci Non è che riesci a darmi un po' dei tuoi peli Che mi servirebbero per provare a fare un parrucchino Grazie Bovi ma cosa fai qui fuori Sei sempre a fumare Dai Che dopo il dolce Ci hanno portato una catalana supplementare Quando arrivo Stavo chiedendo a Baraldi Se abbiamo rinnovato anche Tocco Bella, bello No, ti è piaciuto È interessante Questi sono gli audio che io ricevo la sera Da chi? Da te Da me Da più che altro Chi era l'altro? Che chiedi a cena? Catalana Secondo me sembra la voce di scheriolo No No Non sei sicuro? Eh? Mi sembrava uno più tranquillo No Veramente Veramente Vabbè Però non è venuta molto bene Devo dire la verità No invece No No Il testo sì Però le voci secondo me Non le ha riprese Era solo per farti così Una gag No invece lei la gag non l'ha fatta Lei è proprio andato in diretta Che cosa? Cioè non si è depilato Le bimbe del dottor Danetti Hanno scritto sulla pagina WSN Bravo Continuiamo Per piacere Se viene Se viene Se viene Come era Ieri in televisione O sul suo canale Instagram Noi Non guardiamo Perché hanno ragione Giusto Perché sono tutte vietate Minore di 18 Io ho detto che oggi Lo prenderemo E lo depiliamo No Cioè fa schifo È una cosa schifosa No ma io ho già tolto tutto Era fatto apposta Erano due mesi Che li facevo crescere per quel video Ah va bene Ha tolto tutto Quindi lei sotto È completamente glabro Come lei Va bene Io non sono glabro Ovunque No Sono glabro solo nelle palle Anche qui Se vuoi Le faccio vedere Le palle Che sono glabro No grazie No grazie Ecco Che ha senso per vomitare No ma come Lei Zanetti non ha vomitato ieri Quando ha visto Ha fatto il primo a postarla Il primo Prima a mandarle una roba imbarassante Ho detto che ho mangiato due Cioè questo È un anno e mezzo Che fa il fighino Così no Chissà quanti soldi Mi deve dare Zanetti Il dottor Zanetti Per vestirmi da tazzino Poi si è sfogliato Lui Poi si mette nudo In una vasca da bagno Per una marchetta Di un compaio di squadra Con un altro che a andar bene Avranno fatto anche Ti tocchi e ti tac Sotto l'acqua Io ti dico Io lo so perché l'ha fatto Ma te lo dirò un giorno Io lo so già Perché Lo scrivo Lo metto in un foglietto Lo piego Me lo dici dopo E lo nascondo Non nascondo E poi lo andiamo a tirare fuori Nel momento in cui Sarà utile Poi dopo Lamentatevi se facciamo sempre Fioravanti siamo noi No 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 Era da aprire questa cosa Perché è una cosa Io veramente In sei anni Che trasmetto con lei Non mi sono mai dissociato Di nulla Quello che lei ha fatto Perché L'ho abbassato prima Perché Non lo so Però Io mi dissocio Lei Notaio si dissocia Assolutamente Lei si dissocia Io mi sono dissociato Anni fa No io non mi sono mai Dissociato da Fioravanti Una cosa vergognosa Vergognosa anche Per la trasmissione Cioè vuol dire Cioè un conto è Che facciamo una diretta Quest'estate Dalla Grecia Ma che lei si mette In una vasca da bagno Con un altro Che è un suo compagno Di quadra E dopo le persone Pensano anche Chissà che cosa può succedere Con gli spoglietti Ma è una gang Per fare una pubblicità Di un Fantasaremo Che non si sa Di uno che ti regalano Che ti regalano cose I quadri Di tuo mondo scrofalo Ma no Ma è un gioco Mamma mia Ma come è stato sempre Vabbè Comunque I nostri radioscoltatori Potranno rispondere Via sms Cosa ne pensano Se si disolte Dai che avremo già Dei messaggi Gli sms Come è Vai vai Ho fatto la Christmas card Vai Allora Franco Menini Dice Quanti virtusini Ad Istanbul stasera E i gruppi organizzati Andranno ad Atene Per la gara contro l'Olympiakos Allora Per la gara contro l'Olympiakos Per ora Le notizie che arrivano Ad Atene Sono che i biglietti Vengono dati solo alla società E che non Non ci sono disponibilità Di settori Quindi vediamo Quali saranno le notizie I prossimi giorni Quanti virtusini Ci sono stasera Secondo me Stasera Ce ne saranno una ventina Però sparsi Così persone Che hanno Sono andate Alla peglia A fare i loro Sono a Istanbul No Anche persone Che sono partite Stamattina Da Bologna Però Non Non Folti Nutriti Gruppi Dica Poi Cosa No poi Altro messaggio Emanuele Argentesi Fiore in vasca È bello Ma bello Come uno scivolamento Difensivo Di Ara Dollari Non ti spiego Perché non hai mai visto Il suo Di scivolamento Difensivo Ancora peggio Non l'ho visto mai Nemmeno io E quello è un problema No Forse non l'ha mai visto Nessuno Se non l'ho visto io È tipo il settimo Segreto di Fatima L'ottavo No è il settimo Perfetto E gli altri non li hanno Quei l'hanno Giornato il terzo Ok Poi Giovanni Ciarminiello Dice Forza Magica Juve Caserta Così Così Prima 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 È Radio Basket Italia Ci sta Quella dei due Scugniz Quella l'ho tifata Anch'io Devo essere sincero Anche perché Quella di adesso È ultima Quella mai Anche perché Ci abbiamo vinto La Coppa Italia Con Sugar e Richard Sono Nello Smile È una delle partite Che ricordo Con più grande gioia In Piazza Zarita La Coppa Italia Quella squadra lì Era veramente bella Sì sì Io sono amante Della Virtus Non sono amante Adesso è il tifoso Io invece avevamo La palla canestro E quella squadra Era clamorosa Sì sì Quando rientra La squadra domani Provano a fare Primo allenamento Poi sabato Ne sapremo Un po' di più Insomma Che mai reagisce Però dovrebbe essere In campo domenica Se tutto va bene Tranne che La squadra è completa Per Barcellona Sì Anche domenica Credo che giochi Anche Marco Bellinelli Dopo ne parliamo Però se dobbiamo pensare Che Toco Rientra col Barcellona Vuol dire che La squadra completa Sarà col Barcellona Questo non lo possiamo sapere Perché con due partite di mezzo Ci può essere qualsiasi cosa Io non dico La gufata La gufata Non è gufata Ho detto che Se tutto va bene Cioè La squadra dovrebbe essere Se tutto va bene Nella vita normale Lei vestito In vasca Da bagno Ma rispondi normale Se tutto va bene Quella cosa lì Non passava neanche Cioè Voglio dire Ma smettila Eh vada Ma smettila Cioè Siamo a livelli di Dupre Eh la roba che fa Ma magari Ma magari Sarei fiero io Di essere di fianco a Dupre Sto dico Beh Ragazzi Cioè Vada Tanto è avvocato Vada Vediamo avanti Poi Matteo Eh no Scusate Cristiano l'ha letto Niccoli Nicolino Dalmont Ah grande Grande Un altro che insieme a Dupre Potrebbe passerà Fiore in vasca Con quel coso In mano Non è stato Un bel vedere Ecco Va bene Perché gli hanno dato il microfono Che tanto l'altro Non l'avresti visto Comunque Comunque Vanni non si sente più Dal tuo video Non ci interessa Boh Direi che vi hanno dato Adesso poi dite sempre Che sogno che carico Per aver Vanni qua E poi guarda L'ha già tirato fuori due volte No basta Direi che abbiamo fatto già il trash Albert Taxi Vai Eh Eh buongiorno a tutti E buongiorno a tutti Ma buongiorno soprattutto Alla voce della Della società Quindi La mia voce Gianluca Bovinelli Grazie A cui voglio bene Come a un figlio Dopo averlo visto piangere Fuori dallo studio La settimana scorsa Dopo il monologo di Vanni Grazie presidente Poi audio di Boldo Anche la Virtus Bologna Si dissocia dalla figura Di Filippo Fioravanti Con quel video in basso Filippo Filippo È la Filippo Fioravanti Secondo me Con l'intelligenza artificiale Ragazzi Abbiamo preso Un po' pericolosa Un po' pericolosa E sono rimasto intrappolato Nel vino Eh sì Vedevo che stava per cadere Più che altro È Zanetti Che chiama Lo chiama Filippo Quella è la cosa bella Bella Pippo Vai È probabilissimo Ha sbagliato Quello di Lebron James Può sbagliare anche il suo Vai La più bella Se ti ricordi È stata quella Con Con Rigodò Chi è? Chi è? Comunque Ma chi è? Non lo so Di cosa sto tenendo No lo sappiamo Io è Zan La va lì L'Orient Ah ma il ragazzino Non il presidente No No il presidente No 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 Eravamo lì Era lui di fianco Sì Se ti dico sì Se no ti dico sì Sì Ti dico sì Allora Poi Manuele Argentesi Cara voce della società Che punto sono eventuali rinnovi? Presto Parla con lei No Allora Il rinnovo della settimana È stato quello di Hackett È già qua Dove Dove c'è una diatriba Tra me e Zanna Sulle cifre Io la diatriba Cioè tu sei la voce della società Io sono uno che fa folklore Allora vediamo 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 Allora Si è ridotto qualcosa Quest'anno Sullo stipendio di quest'anno Vai avanti No no Io ti fai Di le tue cose Io Ti faccio una domanda Io le so Da parte mia Che si sa da dove vengono Sì va bene Quindi io non lo dico La società No no Quello che mi hanno detto Beh ha detto uno Che era seduto come te Dentro la mia smart Ecco Quindi Non credo In questa trattativa Diciamo che Virtus È molto contenta Perché lui Si è tolto qualcosa Che ha fatto rientrare Virtus Nel famoso Fair Play finanziario Per quest'anno Qualcosina Sì Non stiamo parlando Di cifre esagerate E prenderà Insomma Alla fine Sui 700 750 Col bonus Avevi scritto 600 All'inizio Sì ma non avevo Però sulla chat 5,50 È la base Più ci sono dei bonus Che arrivano Circa su quella Io so Una cifra diversa Ma è uguale Non cambia niente È una cifra Comunque diversa Credo che lui È la persona Che me l'ha riferito Abbia Abbia letto Prima di scrivere Cos'è Grandi linee Qualcosa avrà letto Andando avanti Scopriremo Cosa ha fatto Gli ha fatto Il contratto Così E poi gli ha scorporato L'IVA Io ti dico Che c'è questa Da quello Che mi hanno detto C'è stata Questa situazione Che sul contratto In essere Qualcosa di meno Prende quest'anno Prende di meno Ma Fra parentesi Ci sono delle clausole Che non sono Legate ai premi Bensì In minus Di conseguenza Parte da più alto Io so che parte Da più alto Ma può Ridimensionare Ma è certo Quello è normale Però al di là Di questo Al di là di questo Insomma È stata un'operazione Che secondo me T'ha citata Da alcuni Soprattutto Dell'altra sponda Che dicono Siete contenti Che arriverete Rinnovato uno Che arriverà A 39 anni Io senza offesa Nella mia squadra Daniela Che te lo voglio Sempre Allora Rispondo Rispondo Io Te l'ha detto anche Ma no Manco li ascolti Ma Detto Quello Cioè Se no Devo ascoltare Gente che dice Che Lumberg Non è capace Zizic Se era buono Se poi era buono Rimaneva Ecco Secondo me Posso dire una cosa Stasera È Per me La partita Che Lumberg Se Siccome Parlavamo Di contratti E chiede la stessa cifra Che prende quest'anno Secondo me Questa sera Chiede un po' meno Sì no vabbè Chiede un po' meno Però Non tanto Però almeno Secondo me Si contenterà di me Però Sì alla fine Secondo me Troverà una quadra Però secondo me Stasera È una di quelle partite Che per avere Potere contrattuale Se fai una bella partita Secondo me Alla fine Tra tutte Non diamo Della pressione A quel ragazzo No No Noi da qua Da qui Da San Lato Volevo dire Volevo dire La pressione alta Ricordi che abbiamo Questa pressione Comunque no Detto questo E io Al ragazzo Che ha firmato Di Forl in Publi Voglio molto bene Va molto bene Sul primo anno Sono molto contento Sul secondo anno Sono un po' titubato Però Ripeto Me la può spiegare Sempre Quindi Però È un contratto È un contratto Molto importante Per un giocatore De 39 anni È l'unica volta Che mi posso trovare D'accordo L'unica no Una delle poche volte Che mi posso trovare D'accordo Sul discorso Età Nel senso che È un ruolo Abbastanza importante Quello che porta Avanti lui E per come gioca lui Quindi bisogna Sempre sperare Che stia sempre bene Detto questo Per me Li può fare Tranquillamente I 39 Nel campionato italiano Posso farti vedere Una cosa Una volta Si ricorda Si metteva la mano dietro Poi c'era C'era Rockefeller E faceva il trilo Tu eri Ruiz Moreno Sei il vecchio Ruiz Moreno Sono io E qua di fianco Il pupazzo Rockefeller Ma cosa vuoi da me Vi sto lasciando Vi sto lasciando parlare Dica qualcosa Ma vi sto lasciando parlare Io È molto gentile In questo momento Allora Se vi interrompo Mi dicono che non devo interrompere Per i momenti radiofone Ci sto zitto Devo parlare Cioè Mettetevi d'accordo Va bene Quindi il tuo parere è che Sul secondo anno Un po' Allora Secondo me È il tipo di gioco Che ha lui Che logora Quindi per cui Il secondo anno Cominciare a essere 39 Si può dire Che secondo me Secondo me Più che andrà avanti Giocherà sempre meno Playmaker Giocherà sempre più Nel ruolo Questa l'hai già sentita No L'ho detta proprio ieri E la guardia Quando te scrivevi Oh ma sei un bel Oh sei un bel vigliaccone Hai visto come si fa A far parlare Il ventrilo Come glielo tiro fuori In un attimo Questo Bella quella Un attimo Anche se cambia ruolo Anche se cambia ruolo Ha comunque 39 berette Ma detto questo Dopo deve avere un playmaker Quindi bisogna andare a firmare Un playmaker Ce l'hai a Lundberg? Meno male Perché Se partivo Se partivo Mezzo paiola E mi bupa lì Su Lundberg Su Lundberg Ha una grande visione di gioco Una marionetta L'ho sempre detto Una marionetta Una banderuola Una roba imbarastante Forse una grande mano Dalla lunga distanza No no Come le bronzine Quando arrivano E hai detto da un altro Che mangiava come tè Di pallacanestro Beh il bello è quello Però Imbarastante Quello che posso dire Quello che posso dire È che ha una grandissima Visione di gioco Anche domenica Ce l'ha dimostrato Con la Liup Alzato per Zizic Comunque Questa è la dimostrazione Che non esiste L'altissimo Se no te avrebbe freddato Sul microfono Posso dire Non è che Perché i microfoni Sono nuovi Lei ci deve stare appoggiato E metterci la lingua dentro Lui piace Lui le cose cilindriche Le abbocca Non è un cilindro Quelle belle cilindro Cerco di spiegarvelo È che di là Non me l'hanno calibrato Quindi Me l'hanno calibrato Alla membro di segura Fioravanti Fioravanti Se tu vai giù in pasticceria E parli Sentiamo lo stesso Cos'è che ti ho calibrato? Non mi hai calibrato questo Qui l'hai fatto così Non hai capito un cazzo Non hai capito un cazzo Io loro li sento da Dio Invece Anche lei la sento da Dio Ma scazzoli No Io voi vi sento bene Allora lui cosa ha pensato di fare? Non ha detto Calibriamo il microfono Lo lecco Aspetta che faccio Come fa Martina Smeraldi O quella Magà Ma l'amo alla follia Chi è? Chi è? Come chi è? Ma va là Ma va là Ma va là Ha detto chi è? E quando racconta di guardare dei film E poi Cioè guarda delle partite In realtà sei di là Spugnetto Chi è? Però ha detto questo Fa come quella di Un giorno in pretura Come fa? Fa come la tipa di Un giorno in pretura Non piangere Andiamo avanti La zingara Aspetta Non vuoi tirare fuori la tabella Che c'è Dopo dopo So che Zanna è qui Che freme Dopo 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 parleremo della tabella E delle proiezioni Perché A che ora lo fai? Che vado a capire Non è la tabella Vuoi parla con Jack Bonora? No no Devo fare già un articolo Jack Bonora Anche per il WM Che mi sono dimenticato Troppo a Renzi Mi ha chiamato oggi Dica Dica No Stavo dicendo Che te l'ho tarato io Ok E devo continuare ad abbassarti Perché vai sul rosso Anche quando ridi Vai sul rosso Eh Quindi cosa Non ti senti cosa Se uno ascolta la radio Ti senti dieci volte sopra gli altri Quello perché è del PD Questa è una grande fortuna Perché ascolta la radio Sì è una grande fortuna proprio No Però non togliere Non spegnermi Abbassalo al mini Dai Va bene Mi fido Mi fido Mi fido Poi Sì qua ci siamo persi I miei messaggi No dici Eravamo a Lorenzo Maini Scusate prima Non ho capito dalla voce Della società Se Abbas è in scadenza Abbas è in scadenza Ma stanno trattando Per il rinnovo E ci sono buonissime possibilità Che anche l'anno prossimo Per due anni Abbas resti Bella idea Eh Sono contento No lo stavo ridendo per te Che Albert Axi Appena scritto Bovi Ma quelle due bottigliette Sono una specie di talismano O hai un disturbo compulsivo No no Sono sempre io Boz Tutto No 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 Talisman Vai vai Fai le altre cose Poi Sandro Jackson Andreani Ben arrivato Dottor Bavicelli Si impegni un po' di più Perché non è abbastanza Spocchioso Non ci deve più ascoltare È vero Guarda che Uovo Ti toglie anche Dalla balotta Delle uscite in moto Una cosa l'ha detta giusto Ti tocca andare con l'Harley da solo È brutto Con l'Harley da solo Il dottor Sandriani Ha detto una cosa giusta Ha detto che lui Come le bimbe del dottor Zanetti Dopo la situazione Forse Che ha visto ieri Sui social Ha detto Forse aveva ragione DJ Uovo Hai messo te sui social Cioè tu Ma io l'ho messa Cioè quindi Lei non l'ha pubblicata Sulla sua pagina Io ho collaborato Come d'accordi Però Quello che dico È semplicemente Lei l'ha messa su Virtusini Siamo noi E gentilmente Nei gruppi Virtus Si deve parlare Solo di Virtus Mi perdoni Scusi Lei conduce Virtusini Siamo noi Qua in studio Sì Ecco Lei è una persona Di questa trasmissione Conduce no No Conduce Siamo tutti co-conduttori Vabbè Vabbè Questa è un trisone Lei è qua È qua In studio Sì Una figura come lei Sì Può Può Esporre la trasmissione A queste cose Cioè vuol dire Un conto Dice Facciamo una diretta Dalla Grecia Siamo io e lei E va bene Lo facciamo Perché la gente si chiama Il 28 27 30 di luglio Che comunque eravate brutti Da guardare lo stesso No ma non ci vedevano Perché alla fine Noi inquadravamo il mare No alla fine Siamo inquadrati invece Sì vabbè Che me lo ricordo Non ho idea di quanto Quanti soldi Sono partiti Perché la connessione E prendeva quelli Dalla Turchia Abbiamo speso Un'ira di Dio Speso Metà avete inquadrato Il tavolo Era Per un centro tavolo Erano le prove Vabbè Vada Marco Rimondi Filippo È bellissimo Ma guarda che Secondo me davvero Lo chiama Filippo No 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 Bella Filippo Bella Filippo Le bimbe Del dottor Zanetti Notizie sul truccabimbi Di Fioravanti E poco dopo Trucabimbi Di Fioravanti Risponde alle bimbe Dicendo Eccoci Perché si risponde Cioè io dico La mente malata Che si manda il messaggio All'altro profilo Con più personalità Disturbo di persone Eh questo sì Credo di sì Molto bello Ne ha tipo 12 di personalità E soprattutto segna Segna persone Che hanno tante cose da fare A me piacciono Quando le persone Ha tante cose da fare Beh adesso però Non si riempiono Siamo qua anche noi Non fare nulla No 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 A me piace No no A me piace Assolutamente Ma è certo Ognuno Io sono qua da un'ora prima Vai Poi E poi le bimbe Del dottor Zanetti Che gli ha messo La gif Con le manine a cuore Poi Andrea Della Noce Scrive Videotrucca bimbi Poi Eugenio Bisogna spiegare Telefonato Oddio Alessandro Vada 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 Alessandro È uno salvato Vada in diretta Dispondo Sì Vai in diretta Pronto 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 Ah Ciao ragazzi Sono Candini Sono Alessandro Ciao 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 Ascoltate ragazzi Io vi Ho ascoltato solo adesso Perché di solito Quando non vengo lì Ascolto in podcast Alla mattina Per questione di orari Avete già parlato Di questione di Bellinelli Che stasera non gioca Per caldo Lo volevo aprire Lo volevo aprire Perché volevo sentire Pareri Posso dire un secondo Una cosa io Assolutamente Ho detto sui social Delle cose assurde Anche io Anche io Anche io È nata la figlia ieri Io sto Ma anche se fosse Sarà un mio diritto Avrò chiesto alla società Ma poi ammettiamo Che avesse anche male al polso E lo volevano Tenere fermo Per sicurezza Perché pensavano Che forse stasera Non lo so Sai come va Ma qual è il problema Ma se non gioca Che è nata la figlia Una domanda Che chiedo io Un po' polemica Io dico una cosa A parte che la società Non ha messo becco Da quello che so io No ma per dire Bellinelli ha risposto Ha risposto ai suoi compagni Cioè ha detto qualcosa Ai suoi compagni Poi si tratta Di una situazione Che è da un mesetto Che questo parto È un po' difficoltoso Soprattutto la notte La moglie Non dorme Una cosa Quello o quell'altro Non doveva nascere ieri Ma doveva nascere Tra una decina Di giorni Non c'è nulla Di che Cioè nel senso Che purtroppo Sono andati Alle 4 di mattina Lui è tornato Dall'ospedale Alle 10 di mattina Non ha dormito Ha telefonato I compagni di squadra Ha detto Non vengo Ma giustamente Ma che cosa Qual è il problema Qual è il problema Io immagino Che tutti quelli Che hanno commentato No Se avessero passato Una serata Del genere Come stavi raccontando Tu adesso Giù dopo Alle 6 sarebbero andati A lavoro No È che noi Non è tanto alle 6 C'è un parto prematuro E ci sono stati dei problemi Appunto Uno deve seguire La famiglia E dopo Va A fare il proprio lavoro Anche perché Non potrebbe comunque Essere A posto Mentalmente Nella partita Quindi Qualsiasi persona Di qualsiasi lavoro Farebbe La cosa Che ha fatto Bellini Aspetta Dico un'altra cosa Se andiamo a riprendere I social Di due anni fa Quando nasce L'altra E Bellinelli Va a giocare A Venezia E Bellinelli Purtroppo Si infortuna In quel di Venezia Se andiamo a leggere Ah ma forse Non era meglio Se la Virtus L'avesse lasciata a casa No ma c'erano eh Se volete ve li riporto Ve li doti Due anni fa Lui c'ha 4 terabyte Di posto Di persone Lui è andato a prendere L'ultimo L'ultimo Hard disk Quello Cioè lui ha i commenti Della NASA C'era la carica Lui c'ha anche i commenti Della Vidi Vici Nel 2012 Noi Facciamo una Che si chiama Virtus Siamo noi Dove Tendenzialmente E' condotta Dalla voce Della Virtus No scusa Sicuramente meglio Condotta da me Che da lei In vasca da bagno Nudo Lei con lì ha finito Lei ha finito Non ha capito La sua immagine E' andata La società Non ha detto niente No difatti Voglio parlarne In società Scusa Devi andare Voglio parlare Io che sono Io Cioè Lei capisce che Questa mia recrudescenza Nei suoi confronti Arriva Dai piani Alti Cioè Qualcuno Ha visto Io non sarei Molto tranquillo Qualcuno Ha visto E Tac Qualcuno Ha visto Quello Ragazzi Vi saluto E grazie Ciao Vieni quando vuoi Ciao Ciao Ragazzi Ciao Al di là di questo Secondo me Bisognerebbe molto Separare Quella che è la vita Normale A quella che è una vita D'atleta Poi Alcuni dicono Sono privilegiati Sì I ragazzi Che Fortunatamente Che arrivano Sono privilegiati Ma non c'entra La famiglia Non c'entra nulla Non c'entra nulla Con questo E poi oltretutto Ricordatevi una cosa Che Un giocatore Quando Deve Giocare una partita Deve essere Al cento per cento Mentalizzato Su quella cosa Perché possono succedere Tante situazioni Succedono Solitamente Gli infortuni più gravi Succedono O nelle O nelle partite Quando non conta niente Perché è proprio la testa Non c'è lì O delle situazioni Quando qualcuno Ha fuori dal campo Delle situazioni Che estracampo Incidono Quando è che funzionano Le cose Quando le società Riescono A mantenere Un certo equilibrio Su quello che succede fuori E i ragazzi Possono Fare tutto quello Che riescono a fare Sul campo Che non hanno Problemi fuori Perché quando Faccio un esempio Che non c'entra niente Tu Hai Gli stipendi Non pagati Delle situazioni Di questo tipo Ne vanno Poi a inficiare Non perché Tiri indietro Ma ne vanno A inficiare Perché sono pensieri Sul fatto Di lavorare Non lavorare Fare Non fare Però Non mettetela Sullo stesso piano Del fatto di dire Oh Io sono uno di quelli Che Ho fatto notata Le cose Sono arrivato Alle sette di mattina Alle otto Però ero lì a lavorare Perché bisogna lavorare È un lavoro Completamente diverso Poi hanno Tanti privilegi Rispetto a delle persone Sia economici Che in altre situazioni Ma esula Completamente Dal discorso Della partita Di stasera Cioè In un lato O nell'altro La partita di stasera Una squadra Come voi avete visto La Virtus La Virtus Io credo Che possa rispondere Di gruppo A questa situazione Quindi chi scrive Determinate cose È solo perché O ha paura O teme O non ha fiducia Degli altri Che vanno Vabbè Ragazzi Io non vorrei neanche parlare Di sta gente Eh no Però Quando in mezzo C'è la famiglia Io non voglio parlare Questa è una cosa Che A par che È totalmente Soggettiva Ma In questo momento Non è che gli è nato Un figlio E una figlia E basta Ci sono stati Diversi problemi Quindi vorrà stare Di fianco A sua moglie Vorrà stare Di fianco Alla bambina Appena nata Quindi è giusto Che sia a casa E poi se la Virtus Vince O la Virtus Perde Non me ne frega niente Perché la famiglia Viene prima di tutto Anche perché Ragazzi Quando Ti nasce un figlio Non è che c'è Solamente Il discorso ospedale Ci sono tante dinamiche Dietro E anche a casa Cosa da preparare Da fare Un conto Probabilmente Se si fosse giocato In fiera Allora uno può Anche pensare Di dire Ma andare fino a Istanbul Con una bimba piccola Hai due figli In casa Questa sicuramente Avrà i nonni Chi vuoi Però Non è semplice Cioè ve lo dico io Che ne ho due Ragazzi Stiamo parlando E intanto Abbiamo detto Che il notario Ha due figli Beh vabbè Se ne frega Che dove Nascondere Che ho due figli Sto dicendo Non è una cosa semplice Tolto il trauma Del parto In sé Che per noi uomini Ragazzi Ma esattamente Di cosa parliamo Di niente Infatti andiamo 15-20 giorni Dopo che Polonare Era tornato in campo C'era della gente Che scriveva Delle robe su internet Anche se Polonare E ne abbiamo parlato qua Cioè stiamo parlando Di niente Cioè purtroppo Io mi chiedo Perché bisogna Per forza Parlare di questa gente Che non Mi fa Perché purtroppo I social Dà voce a tutti E internet Che dà voce a tutti Il problema è quello Dovresti fare iscrizione Col codice fiscale Documento Ogni minchiata Ti arriva E Eugenio Bisogna spiegare All'Holly Fancer Delle vasche da bagno Che Lumberg Era l'unico Che serviva Keckok Nel pick and roll Ed è ancora Quasi l'unico Che serve Con i tempi giusti Zizic Perché è un playmaker Ma non ha visione di gioco Dotto a fare avanti Lui Eh sì Basta da bagno Poi Sandro Giacsandreani Ha scritto Sto chiamando Sto chiamando di Soppiatto dal cesso È lì dalle quattro Però Non ha più le gambe E scelta che è Stephen Hawking Stephen Hawking Così Poi Germano Mosconi Quanto si è fatto pagare Fioravanti per fare Con passato nel video Non si può dire Eh Benissimo No ma Quello è Un investimento a lungo termine Te lo dico io Poi Pepo Quello vero Dice La Smeraldi È una gran playmaker Come organizza lei i giochi Diciamo che la condivisione Scusami Che diciamo che la condivisione Di Di Bovinelli Nel Virtusini Siamo Noi Ha aiutato tantissimo Ecco Quindi è colpa tua No no Ha fatto benissimo Anzi Ha capito Il mio dissing Ha fatto Lo fa anche in Cassa Fai una cosa Bovi Fai una cosa Ha sfruttato Medi No no Non ho sfruttato Hai fatto te Ci sono Fallo a girare sulla chat Di Virtusini Siamo noi dicendo Bloccate questo video Ma lei sa che cosa Che la pagina Appena io l'ho condivisa La pagina Mi ha chiesto l'amicizia Da tutte le parti Vedi Vabbè Perché la voglio E io Me ne può frega di meno Io guardo Sono lì Che non vedo loro La valigia Dopodomani Dalla prossima settimana Ma sai che bello Fioravanti Ma lei stia lì Dentro la vasca Da bagno Devo guardare solo Le previsioni del meteo Ci ho fatto anche Una goccina di pipì Non lo sapevano ancora Va bene Te la potevi Farmiare Che schifo che fai Comunque Ma secondo te Pensa ai tuoi amici Che dicono Ma che amico di merda Pensa a Jimmy Infatti Jimmy Ha detto ieri Spogliatoio Che l'ha smantellata Dopo che Ce n'è un'altra Poi Emanuele Argentesi Prege difetti Di Quinellis Di Trento Voi lo prendereste In Virtus Diciamo che È un difensore Arcinio Perché poi Questo Ogni tanto Ci sono voci Di Su 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 Ellis Anche di Ellis Sono voci Ricominciamo a sentire Le voci Ci sono ancora arrivati I messaggi Su Grazulis Poi Andrea Comunque Ulaneo Sta con Larimondi Lui ha già vinto Possono fare Il 40 in testa Tutte le partite Larimondi Ulaneo 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 Rimondi 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 Vada dica Dica Vada Metta foto Vediamo Diamo subito Un parere diretto Poi Carlo Se noi avessimo Un bel Francesca Rimondi Quando tornerò Quando tornerò No Quando tornerò Quindi parliamo Di aprile Qua se c'è un bel lumino Quando ci mandano Dei dati Tecnici Lei me lo mette Subito qua E noi L'immagine E qua mettiamo Le palette Così dopo si vede Dal riflesso Nel vetro dietro No 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 Ma no Se compra le cose Fatte La Neo Adesso la risolviamo Io Volevo A me risulta Che sia Valentina Vignali Però magari mi sbaglio Era già cambiato Succede di cambiare Repentinamente Altro regalo Del dottor Zanetti Cavallo pazzo Poi messaggi Poi abbiamo un messaggio Di Daniela Daniela che dice Impossibile che i truccabimbi E le bimbe Siano la stessa persona Su facebook Non si può commentare Con più profili Gestite dalla stessa persona In contemporanea No no Perché lo sai Perché lo sai Perché c'è tutti i fake Per scrivere le reality Se fossi stato io Trucabimbi L'avevi controllato Una volta C'è tutti i fake No il truccabimbi No ma neanche Neanche l'altro Di fianco a me Non stavi scrivendo Arrivando i messaggi Perché ha talmente Tanta rana Che lui non è andato A comprare i pakistani Che stanno dietro Per mettere Mi piace O i cuori È sempre più avanti Tutto vero Lui si mette dentro In cantina Va giù Mette un suo post Col microfono E poi va dentro Mi piace Mi piace C'è chi però Mi ha fatto C'è chi C'è chi mi ha fatto Lo scherzo Di comprargli Sì Dei pakistani Sono svegliato Un giorno Ne avevo una marea Lo dovete togliere Uno ad uno Ti avrete lasciare lì Ma va là Dentro In una scatolina Vabbè Andiamo avanti Carlo Possati Visto che parliamo Di contratti Miki Tocco Zizic Dunston Polonara Ci sono possibilità Che rimangano tutti O l'arrivo di Zizic Chiude per uno di questi Allora innanzitutto Dove hai messo Zizic Nella lista Che è fino al 2026 Vabbè Ma nel dubbio Miki Vabbè Miki è in scadenza Di contratto Non so se ci siano Dei rinnovi O non dei rinnovi Se si vada su qualcos'altro Probabilmente Il contratto di Zizic Lo va a sostituire Gli altri Nomi Ci sono Tocco Zizic Dunston Polonara Tocco ha un contratto In essere Con una sua uscita Sappiamo che c'è Un'offerta reale Da Real Madrid Si sa È intorno ai 2 milioni e 7 La Virtus Non arriverà mai Oltre i 2 milioni Che è poi Quello che poi Andrebbe a prendere Il giocatore Al terzo anno Nel senso che va a prendere Circo 1 milione e 9 Con l'ultimo anno Di contratto E Bisogna portare qua 700 mila euro Ma secondo te Ci sono possibilità Che lui dica No Secondo me Secondo me Secondo me In questo momento Vale tutto Nel senso che Alla fine dell'anno Può arrivare E dire Sto bene qua La guida tecnica Mi piace I miei compagni Mi piacciono Eh no ma per quello Di soldi Ne ho incassati Nella mia vita Cioè che sto bene Decide di Di stare qua a Bologna Come può essere L'anno prossimo Vado a Real Madrid Dove forse È in scadenza Comunque Cius Matteo E può darsi Che ci vada a Scariolo Se va a Scariolo A Real Madrid Secondo me Tocco Sceghiglia Non ci mette piede Non ci va a Real Madrid Secondo me Non ci va a Scariolo Ma va a Scariolo Non ci va Non lo so Però è scadenza È uno dei Cioè è uno Che può essere Dei papabili Cioè Nelle ipotesi varie Come adesso Stiamo dicendo Secondo te Può andare Non può andare La realtà È che sicuramente Da più parti E quando Da più parti A gennaio Ti comincia Ad arrivare La voce Anche di giocatori Che escono Da Real Madrid Magari in direzione Palatinaikos Vuol dire Che in offerta O qualcosa ci sia Che abbiano parlato Che poi Tocco Sceghiglia Lo accetti Questo è un altro discorso Virtus è Comunque Se Tocco Sceghiglia Va via Qualcuno Deve portare qua Settecentomila Che gli dia Il Real Poi dopo si vedrà Cioè Settecentomila Più ti si libera Il contratto Di Giornamichi Poi due milioni Cioè Puoi prendere Puoi prendere Donchic Non finisci Non finisci No Se tutto va bene L'anno prossimo Non hai più il tetto Delle spese Giusto? Se ti allungano il contratto Non lo so Non lo so Quello Quello lo saprai Quando Quello è un altro problema Questo Quello lo saprai Quando Virtus Secondo me Alla fine di febbraio Sapremo Perfettamente Quanti anni E quanto sarà La licenza Perché a metà Febbraio Intorno quando c'è la Coppa Italia C'è la riunione Del bordiero Lega Con tutte le 18 squadre A Barcellona Sì però Non penso che abbia fatto Certi tipi di contratti O rinnovi Pensando Torri in Eurocap Ma no Allora Di base È chiaro che Dalle parole Che sono state dette Anche dall'amministratore delegato Di ECA La settimana scorsa Nei ranking Di tutte le cose Cioè la Virtus Rientra in quello che è Vendita del prezzo Dei biglietti Numero di persone Che vanno a palazzo Rispetto Della wildcard Rispetto agli accordi Che ha preso È normale che Con questi giocatori Anche con Zizic Gli hai dato Un'idea Di una determinata situazione Però è chiaro Che come dicevamo L'anno scorso Finché L'ufficialità L'anno scorso Che la Virtus E la wildcard Quando è Che l'ha detta Il 31 di giugno Però se entra In playoff Ce l'hai la wildcard Era come l'anno scorso Quest'anno Non so Quando Quando ci sia Questa L'anno scorso Era Se entravamo In playoff Eravamo automaticamente Non era così Perché comunque Dovevi battere Sopra Monaco Certo Sopra Monaco Ma parlando di questa cosa C'ho la tabella Stavo dormendo da 5 minuti Tra le altre cose Andiamo Che tabella C'è un altro milione Di messaggi dopo Leggi i messaggi Tanto che Allora In questo momento Stando a questa tabella Stando a questa tabella Con 15 vittorie Con 15 vittorie 15 eh 15 Quanto siamo adesso? 15 15 C'è lo 0,08 Di percentuale 0,08 Ma te le ha fatte Piri? No 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 È una tabella Che sta girando Che sta girando Di essere nei 10 Magari l'hanno preso Da un'azienda Di Non so Adesso te lo dico subito Perché Non devi interrompere Elaborata da tale Ari Allen Utente di Reddit Ah Perfetto Allora Il famosissimo Il famosissimo Reddit Reddit Allora Stando a questa tabella Il Reddit Cittadinanza Allora Ok Stando a questa tabella Ah perché fa anche teatro Ah no Scusi Stando a questa tabella Le azioni sono importanti Stando a questa tabella Per entrare nelle prime 4 Ecco Devi fare 18 vittorie Sì ma c'hai lo 0,01% di possibilità Con 18 vittorie Bravo Perfetto Invece Come se non le avessi fatto Con 23 Lo 0,63% Come fa la tabella C'è qualcosa che tocca Vada nella tabella Vada nella tabella Eh ma c'è qualcosa che tocca Guardi la tabella Ma chi è questo È discalculico Cioè non sa Praticamente tu Se fai 26 vittorie Ha il 53% di possibilità Eh di arrivare quarto Ma anche lo 0,06% Non vuol dire niente Ah quella tabella lì La possiamo buttare via L'ho fatta a posta Ma no Piscuano Ma non possiamo fare Che il pendolino Allora Per arrivare quarto Per arrivare quarto 21 vittorie Il 53% di possibilità Ma è certo È quello che resta Il 23% Lo 0,63% Te l'ha data Vanni No Te l'ha data Vanni Di la verità No Vanni No Ma possiamo Ma questa Ma questa è la percentuale Di possibilità Che è entrare In alcuni civici No Di fare 30 a Bologna Quello è 0,63% 0,06% Vada coi messaggi Che meglio Poi Cioè scusa Tutta sta rottura Di coglioni della tabella Poi non sai neanche spiegare No no Io l'ho data Però se ricominci Sei un minchione L'ho data lei a posta Io l'ho fatta Perché tu non l'hai capito No io l'ho capito perfettamente Però l'ho data Io sono su Instagram Intanto Fate quello che volete Vai 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 Poi Le bimbe del dottor Zanetti Trucca bimbi Di Fioravanti Glielo dico Che siamo due persone diverse Sì va bene E che nemmeno ci conosciamo Dai però Sai che posso dire Che è vero Secondo me Trucca bimbi Scrive Confermo Amici solo su Facebook Io vivo nella mia tazzina Ecco Perfetto Androgex Andreani Comunque Secondo i beni informati Anche Cordini Quest'anno andava a Monaco Quindi tocco Aspettiamo che vada via Prima di fasciarsi la testa È vero Ma mi sembra un po' diversa La situazione Intanto Intanto Era stato Era stato richiesto Dal Monaco Non dal Monaco Dal Monaco Ma per il problema Dei Dei francesi Perché avevano cambiato Le regole Poi dopo lui Ha deciso di rimanere Giustamente Anche perché Al Monaco Hanno preso Chamba Walker Hanno preso Hanno preso Altri nove Quindi prima Poi c'è un'altra cosa A dire I sei accordi Prendevano veramente Poco In primi due anni Che è stato qua E quindi c'era da fare Un discreto adeguamento Di contratto E con le voci Che c'erano In quel periodo Sul budget O non budget Alcuni dicevano Li metteranno O non li metteranno Invece era un punto fermo Per la via Tocco Scenghiglia Ragazzi Ha un contratto in essere Ha un contratto in essere Che Che ha un'uscita Sua Da settecentomila Ma non è che prende Due spiccioli No capito Però Avendo un'uscita Cioè non è che poi È sotto contratto Ma con uscita Appunto Se arriva uno Che da moneta Si vede Camello Il ragionamento Che ha fatto Se accetta Se accetta Il giocatore Il ragionamento Che ha fatto Bovi Però sul discorso Di Scariolo È interessante Ma non ci va Scariolo Ma allora perché Oggi era a fare Il training camp Da Obrado A parte che era Tre giorni fa Vabbè non so Io l'ho vista oggi Bovi mi ha girato oggi No A vedere se capisce Qualcosa di Paracanese Apprende qualcosa Della Paracanese Io non so Che giorno era Però Era quando lui L'ha messo su X A me ha fatto molto Ridere Che ha scritto È tardi E sotto Zanna Molto Molto tardi L'aveva scritto Maggi Vabbè non volevo Far i nomi Maggi ha scritto È tardi E poi io Cioè Maggi Irride Scariolo Quando poi Deve portare Dei piattini Per le lemosi La mesina Ecco Però posso Il carello Si ha parlato male Anche di Z Il meraviglio di lui Maggi piramidale Posso dire Ma perché lui Deve urlarmi Non lo so Io Cioè per settare i microfoni E fare in modo Che non entri negli altri Sono diventato cretino Intanto si sente uguale Posso dire una roba Però su Maggi Intanto Marco Sta facendo il quarto audio Quindi se lo gioca adesso È tipo la chiamata Perché abbiamo già sentito i tre No Dovevi ancora sentire C'erano tre audio Adesso è arrivato il quattro Ok È come chiamare il challenge L'abbiamo messo in fila Capito Come guardare una serie tv No Dicevo Teniamo come raffica Finale A parte gli scherzi Maggi veramente È poche volte A pro Messina Anzi Vedo che Da parte di Milano Spesso si prende Dei cancheri Perché appunto Non è così favorevole Diciamo Alla società Eccetera Tra l'altro Guazzoni L'altra sera ha detto Che Messina è arrivato in fondo Quindi è finito un ciclo E meno male Che è finito un ciclo Quindi Cioè adesso Dire che Maggi Sia proprio pro Pro Messina Eccetera Poi sulla chat Guazzoni è la pecorella Che si ribalta al pastore Ma poi perché non c'è Guazzoni Sulla chat Fatemi capire Non lo vuole Non lo vuole venire No Neanche io volevo venire Non avevo preso porto Però è venuto Adesso viene anche Guazzoni Audio di Marco Vai Vai Bello questo Bello bello Muto così Quando invece è in avere Scusate ma perché si chiama Contratto in essere Quando invece è in avere Sai il nostro Rudy Fernandez Perché già i modi Rudy li ha Ah che te sarebbe Riguardo a Belinelli Io vorrei sapere se Tutti quelli che fanno Questi commenti negativi Sono dei genitori Perché da padre È comprensibile Una cosa del genere Poi visto che non posso Se si mi dà la battuta Si può dire che Belinelli A causa del parto Non è partito L'ho detto anche io Ragazzi c'è l'ultimo Ma per Cegheglia Se invece di monete Ci danno Monecche Per me è in cima Ai desideri Perfetto Beh comunque L'ho detto anche io Che non sono genitore Basta Basta essere un attimo Si era impallato Whatsapp Infatti Dicevo Buonissimo E' bastante C'erano solo due messaggi Di Whatsapp Sono arrivati in 90 Credo Li legga tutti Era bloccato A Ponecche scusa Non gioca mica a Real No gioca a Valencia Gioca a Valencia Infatti gioca a Bascogna Bascogna scusa Vittoria Allora Yuri Mia figlia è nata Alle 3 del mattino Sono arrivato a casa Alle 6 E ho fissato il soffitto Fino alle 10 Poi sono tornato là Era assurdo pensare Che Belia andasse a Istanbul Forse Ma forse Se avessimo avuto La parte in casa E poi e poi Bravo Infatti è quello che ho detto anch'io Sai anch'io quante volte Ho guardato il soffitto No Adesso A parte Le cagate Davvero Non 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 c'era la digestione in atto No E' veramente Psicologicamente E' veramente distruttivo Sto facendo un discorso serio E' distruttivo quando ti nasce un figlio Sotto tanti aspetti Sei lì Cioè Insomma Tutta la situazione che si vive Anche a livello Stato d'animo E' veramente difficile Fare qualsiasi cosa Punto e basta Poi Lorenzo In un mondo normale Non inquinato dai social Non sarebbe necessario Spiegare nel dettaglio Quello che è successo A Grande Beli Non si può avere rispetto E stima di una persona Solo quando segna 20 punti Che vergogna Dai Poi Due audio di Boldo Aspetta che qua ci devo andare Allora Vado Vada A me Zanetti Mi ha sempre chiamato Sebastiano Scariolo Ma L'importante E' che l'ufficio paghe Della Segafredo Scriva il nome Giusto sul bonifico Basta Liban Perché Per me Si legava al discorso Di Filippo Fioravanti Ecco Poi Mi sa che è meglio Se parlate di piramidi Che sulle tabelle Vi vedo male Beh anche sulla piramide Perfetto La piramide l'abbiamo Poi Abbandonata No 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 L'abbiamo sgominata Sgominata Eeeh Eeeh Poi Modesti siamo noi Allora A esserci dentro Come te Bovinelli Per forza Insieme ai prolissi Vi leggo gli ultimi due Al volo Perché poi dopo Dobbiamo lasciare La linea Germano Mosconi Deve ancora arrivare Tra l'altro Reddit di cittadinanza È molto bella Perfetto Mi è piaciuto No no Gli è piaciuto Poi Mi è piaciuto il silenzio Ecco Le bimbe del dottor Danetti Binge watching Con gli audio di Marco Beard watching Binge Binge watching Ho forse sbagliato a scrivere Bene Detto questo I messaggi Li abbiamo letti Bene Vogliamo aggiungere qualcosa In questo minuto C'è qualcosa da dire Su domenica Abbiamo ancora tre minuti Su domenica Non è vero Aspetta Sono arrivati altri tre messaggi Ma c'è Whatsapp in pallato Arrivano C'è una dei 48 Dieci minuti fa Ed è arrivata adesso Vada Allora Questo è Andrea Che scrive Sì era la Vignali Il mio errore Comunque Scariolo A Madrid È considerato un dio Ok Poi c'è un audio Di Sandro Sandriani Che mi preoccupa tantissimo No Adesso Maggi contro Messina Ma se li fa del pelo e contro pelo Con una lingua felpata Che li fa anche il bidet Allora dai Notaio Bravo Bravo Io ti dico Comunque Binge È Binge È scritto giusto È abbuffata Quindi abbuffata di audio Abbuffata di audio Poi Sergio Scrive Buonasera a tutti Si sa per caso Quanti servi Saranno settimana prossima Contro il Partizan Allora In questo momento Ad oggi Credo che ci sia solo Il settore ospiti E credo che nel palazzo Restino 400 biglietti In vendita Agli abbonati Che con il passaparola È sempre più probabile Quello che dicevamo Che non Non verrà aperta La vendita libera Cioè nel senso che Ah Tra l'altro Posso scusami Ho un amico Che mi ha scritto Se avevo qualche codice Di abbonamento Per poter prendere L'imprendazione Perché i miei Li hanno già utilizzati Quindi Se qualcuno Vuole fare un piacere Dare il codice Dell'abbonamento A uno che vuole Comprare il biglietto Per il Partizan E uno che abita a Ferrara Quindi non ha sempre La possibilità di venire E vuole venire col Partizan Beh possiamo aiutarlo No? Possiamo Possiamo aiutarlo O no? Faccio male a dirlo? No no Possiamo aiutarlo direttamente Però non possiamo aiutarlo Come curva Nel senso No non come curva Ascoltatori Scrivete Chi ha un codice Anche perché Più virtuocini ci sono E meno Ricordiamo che con il codice Una persona può prendere Fino a 5 mili No più che altro Meno serbi ci sono Giusto? È questo Quindi c'è un ragazzo Come l'anno scorso Sì infatti Ce n'era una tonnellata 3 mila ce n'erano L'anno scorso era Era un po' Tantini Cose che non sarà Cose che non sarà quest'anno Perché ripeto A oggi Questa mattina Gli ultimi dati Erano 400 biglietti Ancora disponibili Per la partita Eh ma se arriviamo vicini Che non li vendiamo Vedrai come si aprono Tolti quelli che di default Vengono dati a loro Non 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 hai obbligo Di dare qualcosa a loro Quindi loro al momento Non hanno biglietti? In Eurolega Tu decidi a chi dare Se dare o no Se tu domani mattina Decidi di non dargli Un biglietto Gli devi dare 20 biglietti di scambio Che ci sono Non c'è nessuna regola Infatti le spagnole Non so le spagnole Maccabi Maccabi ti scrive Proprio dichiaratamente Io non ho piacere Che tu vieni a casa mia E io gli risponderei Io non ho piacere Anche io Di vieni a casa tua È una vita Che state a casa di tutti E non posso vieni a casa tua È una vita che girate Il muo Perché non avete avuto E io non posso È colpa sua Non si fanno battute È come la dicieria Non è una battuta È la realtà No perché Non sai dov'è il confine Per quello non puoi farlo Va bene L'avevano Non avendo Se lo sono creato I confine Capito? Comunque Al di là di questo Ci sono un paio di cose Cioè Neurolega Non esiste Questa cosa qua Dello scambio Decide da società A società I rapporti che ci sono Nel campionato italiano C'è l'obbligo Del minimo Dei 50 biglietti In serie A1 In serie A2 C'è l'obbligo Del 10% Della capienza Ok Poi sempre Sergio È un vostro pronostico Per stasera La vedo molto difficile Se non dovessimo vincere Non penso sia una disfatta Ma se dovessimo farcela Sarebbe un colpaccio Ventello Stasera Vediamo Vediamo Poi Audio di Albert Axi Vai Ciao Sono Pozzecco E non ce l'ho la voce Di Pozzecco Mi dispiace Ciao sono Pozzecco E sono piuttosto Scandalizzato Da Bellinelli Quando Nei miei giocatori Con un cuore enorme Quando è nato Il figlio di Achille Non sono tornati Non sono tornati a casa Ricordiamo sempre Il cuore grande Dei miei giocatori E poi E poi aggiunge Ah I serbi E il loro magico amore Per l'oltrepassare I confini Ma non sono i serbi Anche i serbi Anche i serbi Eh beh certo Vabbè Storia però Sì 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 Abbastanza Va bene Detto questo Direi che Possiamo salutare E andare a casa A vederci la partita Esatto E lasciarvi a Jack Bonora Se arrivi in orario Naturalmente No sarà già qua Eh già qua Noi torniamo Noi torneremo Lunedì Dove lunedì Ci saremo solamente Io e il dottor Zanetti Da qui Perché lei sarà Collegato Certo Da Ortisei Sarà il primo collegamento Con le lucine Non lo so Se avranno le lucine Le lucine A Natale passato Eh ma Sa che là c'è sempre Un ambiente un po' Le stelline La lunetta Io non lo so Perché non frequentando La montagna Quindi non No c'è sempre Un ambiente un po' così Un po' Un po' Natalito La casetta di legno Un po' La casetta di legno Molto legno Beh Cos'è Questa musica Che parte Per salutarvi Ah Ma senta Sfumavo Ma quando Quando partirà La nostra applicazione Che potranno tutti Sentire la bellissima Musica di Radio Basket Italia Ma guarda Se vanno su Radio Basket Italia Nella Nel player Di MyTuner Ascoltano Ah ok Si può già dire Certo Assolutamente Va bene Perfetto Salutiamo anche Bonogna Aveva messo lo sponsor Assolutamente no Ma va bene Perfetto Questa è colpa mia Non lo sta bene Bonogna Vedi Rimaniamo assiutti Ci sentiamo la prossima settimana Forza Virtus Sempre Ciao a tutti A lunedì Ciao